Denunciato il 9 novembre scorso per ricettazione, per la seconda volta è stato denunciato con lo stesso reato, protagonista un 74enne che è stato sorpreso ieri dalla polizia stradale di Pratola Peligna, per la seconda volta con cellulari e schede SIM di dubbia provenienza. E' scattata quindi la seconda denuncia per CM, queste le sue iniziali, originario della provincia di Teramo, dopo un controllo a bordo della sua auto. L'uomo è stato immediatamente riconosciuto dagli agenti e sottoposto a controllo da cui sono emerse 11 nuove SIM card Vodafone e occultati in una scatola rettangolare, due tablet e due telefoni cellulari di ultima generazione del valore complessivo di 1800 euro. Tutto il materiale di provenienza è illecita ed è stato sequestrato. Le indagini sono affidate alla Procura della Repubblica. E' stato infine denunciato anche un quarantenne originario di Palermo per aver venduto un iPhone tramite un noto sito di compravendite online, senza mai consegnarlo all'acquirente però, che aveva provveduto a fare regolare pagamento di 510 euro. Le indagini sono scaturite dalla denuncia per truffa del rappresentante di commercio di popoli che non ha mai ricevuto il cellulare pur avendolo pagato.